i signori pur parere negativo si stanno accingendo allo scarico di rifiuti in aria sottoposta a impianto di sommorgenza non sta scaricando nessuno probabilmente sarà un privato addirittura un attigiano è vero che la gente ve l'andate proprio a cercare ragazzi no tutto tutto sto qui tutto il tempo che voi scaricate la roba anche se non gli è stato dato il consenso continuano